Buongiorno ragazzi, è il 5 ottobre 1960 quando i computer del NORAD lanciano l'allarme definitivo. Con una certezza pari al 99,9% il radar di Tull ha rilevato un massiccio attacco sovietico. E secondo il computer i sovietici hanno lanciato talmente tanti missili da oscurare letteralmente la Luna. E così, mentre gli altri papaveri americani danno ordine di preparare i propri missili nucleari per la ritorsione, alcuni tecnici si rendono conto che questo è uno scenario da incubo. Letteralmente da incubo, come possono i sovietici aver lanciato così tanti missili da oscurare la Luna? E poi tutti sulla stessa traiettoria. Nei pochi minuti a disposizione i tecnici effettuano una lettura manuale dei dati. E si rendono conto che questi missili dovrebbero trovarsi a circa 400.000 km di distanza dalla Terra. Distanza che, incidentalmente, è esattamente pari a quella della Luna. A questo punto è facile tirare un respiro di sollievo da una parte e fare 2 più 2 dall'altra. Il nuovo radar è così potente e sensibile da poter registrare l'eco della Luna. E quando disponi di radar così, che cosa potrà mai andare storto? La risposta è che se sei un pilota di aerei o di elicotteri in una zona di guerra, la tua vita diventerà decisamente complicata. Perché dovrai passare la maggior parte del tuo tempo volando rasoterra o, come dicono i diversamente esperti, sotto quota radar. Già, perché volare sotto quota radar è un termine che sentiamo ripetere spesso in film, telefilm, cartoni animati e troviamo probabilmente anche nei fumetti. Ma non è più attuale perché la sensibilità dei radar è migliorata enormemente. Durante la guerra fredda i radar erano puntati principalmente contro il cielo, per il semplice motivo che non erano in grado di scansionare il terreno. Quindi, per non essere rilevato, ti bastava stare sotto l'angolo di lettura del radar. Mediamente, quindi, potevi volare indisturbato se riuscivi ad avere una quota inferiore ai 250 piedi, che sono equivalenti a circa 80 metri di altezza. Mentre invece, al giorno d'oggi, i radar possono letteralmente rilevare anche la presenza di oggetti vicino al terreno. Motivo per cui, se vuoi evitare di essere identificato da un radar, devi volare rasoterra e porre in essere altre strategie che vediamo nel proseguo del filmato. Sappi comunque che i pericoli sono enormi. Esemplificativamente, se stai volando a 30 metri di altezza, il radar ti potrà identificare fino a una distanza di 27-30 chilometri. Viceversa, se voli a 227 miglia, e cioè a 10 chilometri di altezza, il radar potrà avvistarti nel raggio di 400 chilometri abbondanti. E naturalmente, un modo per incrementare ulteriormente l'efficienza del radar è quello di piazzarlo su un'altura. L'aspetto negativo consiste nel fatto che un radar fisso, peraltro su una collina, è un bersaglio relativamente facile da colpire. Per ovvi motivi, la maggior parte dei radar è in grado, solo ed esclusivamente, di analizzare il proprio orizzonte. Esistono però alcune strutture molto più grandi e potenti, chiamate con poca fantasia over horizon radar, che sono in grado di mandare dei segnali radio che rimbalzano nell'atmosfera, colpiscono il bersaglio oltre l'orizzonte e mandano indietro il proprio eco. Si tratta comunque di strutture molto grandi, statiche, facilissime da colpire. E inoltre, salve errore da parte mia, non sono neppure in grado di coordinare una controoffensiva. A differenza, infatti, di quello che fanno i radar antiaerei, non possono comunicare con gli uomini e i mezzi sul campo. Di conseguenza, vedi il tuo bel bip di quell'aereo che si muove verso il tuo territorio, ma non puoi fare assolutamente nulla per fermarlo. I russi, per gestire l'operazione militare speciale in Ucraina, utilizzano anche un sistema noto come NEBO-M, del quale esistono almeno due versioni, una per l'esportazione e una per l'uso domestico. E c'è anche un bellissimo spot che vi invoglia a comprare questo sistema mostrandovi, nella prima parte, scienziate russe che fanno cose con il microscopio. Essi sono immancabilmente bionde con gli occhi azzurri. A parte questo, il sistema NEBO-M si compone di almeno due unità differenti. E cioè di un'unità che svolge la funzione di antenna e di un'unità che svolge la funzione di centro di elaborazione dati e di comando. Stando alle specifiche tecniche, la versione russa dovrebbe riuscire a rilevare oggetti in movimento fino alla distanza di 3.800 km, mentre quella per l'esportazione è depotenziata, arriva solamente a 1.800 km di distanza. E naturalmente, se riesci a neutralizzare o distruggere il centro di comando, le antenne circostanti diventano inutili. Il problema consiste nel fatto che i centri di comando sono pochi, costosi e normalmente ben protetti. Questi giocattoli sono relativamente nuovi, ma i russi ormai dovrebbero saperli usare abbastanza bene. Esemplificativamente, il primo sistema di questo tipo è entrato in funzione a San Pietroburgo nel 2017 e nell'anno successivo qualche esemplare è stato inviato in Crimea. Le antenne dei radar moderni funzionano più o meno come delle torce. Rilevano tutto ciò che inquadrano e tutto ciò che si trova nella loro visuale. Il modo più semplice per muoverti senza che la tua presenza venga rilevata dall'antenna è quella di muoverti in maniera tale che fra te e l'antenna ci sia sempre un ostacolo. Nei primi mesi di guerra, per esempio, i piloti di elicotteri ucraini riuscivano, sfruttando le colline e i palazzi, ad arrivare fino all'Azovstal, assediata dai russi. Atterravano, scaricavano il minimo di rifornimenti che potevano trasportare, caricavano a bordo i feriti e decollavano. Purtroppo, dopo qualche operazione o dopo qualche mese, i russi hanno mangiato la foglia, hanno posizionato diversamente le antenne radar o hanno migliorato la redetta radar raggiungendo delle antenne e sono riusciti a rabbattere alcuni elicotteri, convincendo, fra virgolette, gli ucraini a rinunciare a questo tipo di operazioni. Un altro modo per passare inosservato al radar è quello di sfruttare il cosiddetto clatter, termine inglese che approssimativamente può essere tradotto con ingombro o confusione. Ora, qualunque cosa compresa l'aria è in grado di riflettere, in particolare condizioni, più o meno on the radar. I radar moderni normalmente sono in grado di analizzare queste informazioni e comprendere quali sono i falsi echi provocati dall'aria magari in determinate condizioni climatiche, dagli alberi, dal terreno o addirittura dalle linee elettriche, dalle case o dalle automobili. Tuttavia, questo sistema non è perfetto e un pilota particolarmente abile potrebbe ingannarlo volando rasoterra. Abbiamo infatti decine di video in cui si vedono i piloti ucraini volare a pochi metri dal suolo con i propri elicotteri o con i propri aerei. Peraltro gli elicotteri sono quasi perfetti per questo tipo di operazioni. Hanno infatti più o meno le dimensioni di un grosso veicolo, possono volare letteralmente a 3-4 metri da terra, possono sportivamente seguire le strade e le superstrade, la loro velocità non è elevatissima per cui possono anche essere scambiati per un veicolo in movimento e in linea di massima una volta arrivati vicino all'obiettivo guadagnano quota, lanciano i razzi che devono lanciare e tornano immediatamente a volare rasoterra, allontanandosi dalla postazione nella maniera più veloce possibile. Gli areoplani naturalmente corrono molti più rischi perché hanno una velocità maggiore e devono tenere anche una quota maggiore rispetto agli elicotteri, ma sfruttando la stessa strategia si riesce a limitare al minimo il numero delle perdite. Ma naturalmente non è tutto oro quel che luccica, in particolar modo bisogna vedere quanto è efficace un attacco portato con queste modalità, modalità che peraltro sembrano usuali sia per i piloti ucraini sia per i russi. E in secondo luogo quando voli a bassa quota e a bassa velocità diventi un bersaglio relativamente facile per i manpad. In questo caso devi solo augurarti che il nemico non abbia tempo sufficiente per inquadrati. Infine in tuo aiuto può arrivare anche la multipath interference, cioè quel tipo di interferenza che crea delle immagini fantasma. Il tuo aereo o elicottero può apparire per esempio in 3 o 4 punti contemporaneamente, perché le onde radar che riflettono la tua immagine rimbalzano anche da qualche altra parte e si creano delle copie speculari. Con un po' di fortuna il nemico non capirà a quale immagine deve sparare o sparerà un missile antimissile verso l'immagine sbagliata. Come potete facilmente immaginare, se la vita per gli operatori radar è piuttosto complicata, per i piloti è decisamente difficile. C'è il rischio di schiantarsi a terra per un imprevisto, c'è il rischio di urtare delle linee ad alta tensione, c'è perfino il rischio di impattare contro altri veicoli e in alcuni casi anche un impianto di irrigazione può causarti non pochi problemi. Per tutti questi motivi normalmente i voli rasoterra vengono effettuati di giorno, quando c'è la luce e una visibilità migliore. Gli ucraini qualche volta compiono queste missioni anche di notte sfruttando occhiali ed intensificatori di luce. Ma in ogni caso volare di notte non è esattamente come volare di giorno. Si può fare, ma è più pericoloso. Anche se non sappiamo dire quanto sia più pericoloso per il semplice fatto che né i russi né gli ucraini condividono le statistiche sui rischi connessi alle missioni aeree. In ogni caso, secondo le fonti ucraine, ad oggi i russi avrebbero perso 277 aeroplani e 260 elicotteri. Si tratta di perdite altissime e pressoché inconcepibili per i nostri standard. Tenete presente infatti che l'esercito italiano, inteso in senso lato, ha a disposizione poco più di 700 aeromobili. Ed i russi in otto mesi di guerra hanno perso quasi 600 mezzi. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, ma per qualche strana ragione non vi siete iscritti al canale, non avete attivato la campanella, non mettete i like e non li condividete, fatelo. Perché diversamente, la prossima volta che imboccherete l'autostrada potreste essere tamponati da un Sukhoi 24. Io vi ho avvisati. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.